Il Ministero dell'Interno dà ragione alla maggioranza di Palazzo Mosti corrette e approvate le misure di risanamento dell'ente adottate dall'assessore al bilancio Maria Carmela Serluca. Un peso rilevante hanno avuto, sottolinea Serluca, anche i chiarimenti forniti durante il periodo istruttorio, quelli relativi alle entrate derivanti dai beni patrimoniali, al piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune. Allo stato delle procedure di allineazione dei beni e delle azioni poste in essere per il potenziamento dell'attività di recupero dell'evasione e di riscossione delle entrate tributarie. Il provvedimento è stato trasmesso dalla Direzione Centrale della Finanza Locale e notificato a Palazzo Mosti dalla Prefettura di Benevento. Con tale decreto, in sostanza, si riconosce validità, spiega l'assessore Serluca, ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Benevento attesa la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria. L'ente, si legge nel decreto, ha predisposto un'ipotesi di bilancio idonea ad assicurare l'equilibrio finanziario ed economico unitamente all'adozione dei provvedimenti conseguenti alle prescrizioni di cui al presente decreto, che sono da ritenersi indispensabili. Il Ministero riconosce la validità ai provvedimenti di risanamento che il Comune di Benevento ha adottato proprio perché è stata rinvenuta la capacità di questi provvedimenti di assicurare una stabile gestione finanziaria. L'ente, infatti, ha predisposto, abbiamo predisposto un'ipotesi di bilancio che dal Ministero è stata ritenuta idonea ad assicurare l'equilibrio finanziario ed economico, che in realtà è proprio l'intento del dissesso. Cioè, il dissesso è appunto una procedura che deve tendere a risanare l'ente. Il prossimo passo sarà il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla notifica del decreto, dovrà andare ad approvare l'ipotesi del bilancio di previsione 2017-2019. E, ovviamente, durante il periodo di risanamento, il Comune dovrà tener conto di tutte quelle che sono le prescrizioni che un ente in dissesto deve rispettare. Ad esempio, riguardo al personale, vi è il divieto di aumento della dotazione organica. Della dotazione organica vi è l'obbligo di mantenere le tasse nella tariffa massima consentita. Vi è l'obbligo, appunto, di provvedere senza ritardi all'alienazione dei beni immobili disponibili per poter, appunto, avere delle entrate necessarie per risanare l'ente. Grazie a tutti.